Chiudiamo il nostro telegiornale con le spettacolari immagini dell'impresa di Daniel Jung. L'italiano ha completato il Tirolean High Altitude Trail, un trekking da 200 km che attraversa da nord a sud il Tirolo. Partito da Mayrofen in Austria, l'Alto Tesino è arrivato a Meran in Italia in solo 57 ore e 32 minuti. Il tempo medio di percorrenza in genere è tra i 10 e i 12 giorni. Grazie.